Allora ragazzi proviamo Marvel Strike Force, finisce di caricare tutto e iniziamo con il gameplay. E allora eccoci qui eh. Avengers di pensio... Avengers di pensori guardiani. Li ho sconfitti più e più volte e ho piegato le loro volontà alla mia. Ho conquistato centinaia di terre. Corrompendo i loro eroi per rafforzare il mio esercito. Ma questa terra è un Nexus per milioni di mondi e quando cadrà tutti i mondi apparteranno a Ultimus. Tutte le realtà saranno mie. È il livellivolo Comando Shield, New York e St. Un'America, Terra. Direttore Fury, alterazioni interdimensionali confermate. Attiva Strike. Voglio dire di andare avanti con l'Hitro ragazzi, che dite? Magari ve lo lascio scorrere così. È finito quindi sta a posto. Ok 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 dai voglio giocare. Voglio vedere come è questo giochetto per smartphone, questo nuovo gioco Marvel per smartphone. Ecco qua Spider-Man. Continua. Voglio darci l'oppressionetto per favore. Vabbè questo sarà il tutorial ragazzi. Ok. Boom. Spam. Spam. Boom. Stragliato. Ok ma posso giocare io? No. Ok. Ci ho fatto vedere come si combatte. Si apre il sloppo. Non è più di via. Nissì. Loop cage è raffaffinata all'interno di quel sloppo? Non ne sembra affatto felice. No. No. Ma comunque. Mamma mia grazie per mi hai fatto uscire da quella cosa. Prego prego ciccio. Quante gruppi qua. Kingpin sta rapendo i roidi in tutta la città usando una tecnologia ben oltre la sua portata. Qualunque cosa sia architettando Kingpin. Dobbiamo fermarlo. Ma va? Vero. Montate su di me. Tutti dobbiamo montare gli obiettivi giornalieri. Vediamo un po'. Dai. Pronti. Pronto. Quindi ora abbiamo un altro giocatore in squadra. Un altro eroe in squadra. Stesso posto, stesso bar praticamente. Ok. Stavolta però non c'è il tutorial. Mi faccio combattere solo. E infatti mi fa combattere da solo. Mi fa combattere da solo. Ok. Kingpin. Fraglia. Boom. Boom. Bravo Kingpin. Altro caccio a questo. Vai. Fai a me. No. Questa regna te la. Io non so il caccio. Lo ragazzo tu. Questa spara. Colpisce. Ok. Ci rigeneriamo. Ma direi no. Cambiamo obiettivo. Soldato mercenario. Colpiamo questo. E poi a questo punto io direi di finirlo. Ma mamma. Mi sembra un attacco. Ok. Sbagliato. Vabbè. Devo imparare con questo gioco. Finiamolo questo. Dai. Finiamolo. Grande Spider-Man. Adesso c'è lui. Spara. Gli ho. Debolito. Dal calcio. Boom. Ciao. Sbagliato pure questo. E andiamo. Beh. Non male ragazzi. Dai. Per essere un videogame per smartphone. La grafica è carina. E la giurabilità. Vabbè. È quello che è. Ragazzi miei. È in gioco per smartphone. Tra l'altro è gratuito. Mi aspettate. Ma scusate l'imbruttita. Però vabbè. Dicevo magari vedere potenziali. Criticoni. Del momento. Pronto. Per sempre. Allora. Quando è che possiamo sapere che cos'è lo strike? Che cosa sta succedendo qui? Magari. Noi siamo venuti a me. Stiamo andando avanti col gioco. Sapete tutto a tempo debito. Saprete. 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 Tutto a tempo debito. Spider-Man. Tutto ciò che dovete sapere adesso è che dovete fermare Kingpin e recuperare quei globi. Accidenti. Se avessi voluto sapere solo questo non l'avevo mica chiesto. Infatti è un bel... Ma grazie al Kaa. C'è tutto. Ma ha fatto come tutto. Grazie. Grazie al Kaa. Vabbè. Recuriamo sti globi. Ah. C'è Electra. Electra. Electra Lambottini. Boom. Ed è. Questa è morta. Ma spara, spara. Ci troviamo. Spara. No. 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 Ti punisco il giubbido. Ma l'ordine. Schivato. Quello è forte. Ma perché gli ha sparato? Ma chi gli ha detto? Che gli ha sparato? Tutto lo suono. Ma come gli pare? Allora. Electra c'è più filo. Che sai che sono? Ma questa non vuole che ti cura Electra. Quindi straggiamo prima. Questa. Ah. Vabbè. Colchiamo Electra. Vabbè. Non è meglio di niente. E rispariamo. Rispariamo. Dalla strega del gioco. Ma lo butta. Ma schiva sempre questa. È un fenomeno. Eh. Ma non schifilo. Colpo critico ti è. Finimola va. Ciao bella. Che ti dice? Ci sei brutale. Ma, mamma. E' un'altra scusa. E' un tanto per il colpo critico questo, eh. Spargli e spargli. Voglio un pugno Boom Combo perfetta Amore Tutto Per sempre Ragazzi mi piace Faremo altri gameplay Mi piace Mi piace Non è per niente male Questo Marvel Strike Force Non venire contro Lancia il bisogno Penso è tutto io Reclude a the Punisher Bene Non gradisco Non gradisco Taglio Dai Ci mette vent'anni Per caricare Pogli Megabyte Questo è un difetto Già questo Lo possiamo dire È un difetto Caricamenti Eccessivamente Troppo lunghi Un difetto Già gliel'abbiamo trovato Finora l'unico Dai Perché per il resto È stato fatto Veramente molto 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 bene Questo videogame Bravo Brava Bravi A chiunque l'ha fatto Ed è che da tutto Quella è la cosa bella Quindi ragazzi Se vi piace Procedete Tranquillamente Ad oscaricamento Di queste videogame Pronto Vabbè non me lo vado a leggere Sinceramente Vado avanti lentamente Così voi potete leggere Potevo fare anche salta Ma non l'ho fatto Ricordatevi Di questo Vai 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 Ah qui Tieni i globi Bene Basta Pallavolo Dai Combattiamo Vai De la mia lela Bam Bam Colpo critico Bam E lui muore No No Pessimo colpo Dunque quello nostro Non vale niente Dal medio E lui è sparso Sbagliato Dove quel piccolato Mi muore Mi muore Mi muore Mi muore Animale 1 Spare Mino 20 Ah 30 Pazzo Giustamente Prima l'ho criticata Giustamente La ventano Adesso Doveva Chiedergli Una poca Bravo Bravo Fanno prima Però Non serve Non ne ho comprati Ed ecco Che posso Come è tosta Eh Questo è tosta Aspetta Tutto il resto Non si è tolpire Non si è tolpire Pimpin Adesso ci rinunciamo A concentrare Su Timpin Coltro Con i tenni Sennite schierno Ti obbliga A scolpire quel personaggio colpo critico, grande spiderman grande ha schivato spiderman on fire spiderman on fire bel lavoro con kickpin ci vorrà andare a vedere abbastanza niente di energia per aprire tutti questi globi non si è proprio fatto e ci sono i reddrappolati in tutti questi globi dovremmo aprirli per essere resi i globi ovviamente si ho lasciato scappare uno dei gambi per poterlo seguire e prima faccio un'altra fonte questo è il vostro prossimo obiettivo e fanno e improvvisamente ci trasformiamo in Fast and Furious vai appresso Arcamion adesso vai anzi no appresso Arcamion ci andremo la prossima volta questa è la lista dei supereroi comunque dobbiamo trovare Moon Knight non vedo l'ora di trovare Moon Knight da quando è uscita la serie su Disney Plus sono pazzo per Moon Knight non vedo l'ora di trovare Moon Knight dicevo appresso al camion ragazzi miei intanto aspetta facciamo un'attività facciamo ancora qualcosina e poi ci svolgiamo obiettivi giornalieri ok ottieni nuovo livello vabbè ciao era star trek qualcosa un l'hanno scontato comunque dicevo appresso al camion ci andiamo nel prossimo gameplay iscrivetevi al canale per non perdervi tutte le altre partite di questo videogame per non perdervi tutti gli altri gameplay e tutti gli altri contenuti legati agli anime alle action figure alle manga e tanto tanto altro ancora lasciate un bel mi piace a questo video commentate questo video condividete questo video seguitemi anche sugli altri social network ed iscrivetevi agli altri miei canali youtube trovate tutti i link in the box e noi come al solito ci becchiamo al prossimo video ciao belli